chagall produsse moltissime opere dipinti illustrazioni vetrate scenografie costume per il teatro un vero artista a 360 gradi la sua creatività traeva origine dai ricordi di vita ebraica mark proveniva da una famiglia ebrea e dal folklore dei suoi primi anni in russia e dalla bibbia per arrivare a parlare di questo dipinto gli amanti in blu occorre parlare di bella rosenfeld lei è la donna che mark sposò nel 1915 e che rappresentò non solo il suo più grande amore ma anche una musa di bella che morì prematuramente ne parla in un post nel blog di qualche tempo fa e in un video sulle muse e gli artisti grande amore e musa di chagall durante gli anni felici del loro fidanzamento chagall realizzò una serie di opere in cui il tema trattato era l'amore come rivelazione poetica un viaggio attraverso un mondo onirico sensuale e avvolgente negli amanti in blu realizzato nel 1914 mark e bella sono raffigurati con i volti appoggiati l'uno all'altro fissati in istante in cui entrambi non sono persone riconoscibili ma diventano un simbolo del sentimento puro immerso in un'atmosfera da sogno bella è la figura posta frontalmente a noi di cui vediamo anche una mano guantata con la quale avvicina a sé l'amato per stampargli un bacio allo stesso tempo dolce e sicuro sul lato delle labbra mark è di profilo lo distinguiamo anche dai riccioli ha una corona dall'oro tra i capelli e la mano dell'amata premuta contro una guancia gli occhi sono chiusi quasi a voler assaporare il momento la luna a rischiare i corpi di entrambi gli amanti immersi in un blu vibrante che sembra abbracciarli è commovente vedere come chagall non avesse problemi nel mostrarsi completamente arreso all'amore qui l'artista è esposto e fragile trattenuto con passione da bella che ci appare più forte e sicura di mark ma poco importa perché ci pensa la notte a collare gli amanti la notte che regala loro quella profonda intimità che di rado due persone riescono a raggiungere mark e bella l'avevano raggiunta e questa splendida opera lo dimostra se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando e anche a visitare il mio negozio un saluto e anche a visitare il mio negozio un saluto e